l'ice bucket challenge il pre facciamo vedere cosa sta succedendo allora ringrazio moreno per la sfida dell'ice bucket challenge ringrazio per il taglio di capelli però c'è la dire che non metto questa idea uno spreco d'acqua avrei fatto piuttosto del latte di soia ok questa è quella buona la farò la prima ringrazio moreno per la sfida dell'ice bucket challenge e basta no? avevo già detto che per me è uno spreco d'acqua che lo farei con il latte di soia e se dobbiamo farlo facciamolo fatto bene quindi prima rimuoverò i pantaloncini della mia dignità hai messo veramente quelli col teschio sono pronto ecco perché fermo però c'è da dire che piaccia dai nomina diciamo sta cosa nomino direi Selim Reggie più Scizzaca Davide Moretti Marco Pessina e magari mio padre mi sarà divertente vedelo provare c'è un pitbull che mi guarda malissimo c'è un pitbull che mi guarda malissimo è vero? grazie 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 grazie